I consiglieri di opposizione del comune di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, Giuseppina Pastorino e Giuseppina Fierro chiedono un incontro al presidente della provincia, Michele Strianese. Alla base della richiesta, la necessità di intervenire sulle strade che collegano Olevano a Battipaglia e a Macchia di Monte Corvino-Rovella. Entrambe in pessime condizioni. Due, gli interventi urgenti, illuminazione pubblica ed il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. Grazie a tutti.